da questa immagine. Allora di questo pittore che abbiamo già detto far parte del gruppo dei sette pittori del Novecento perché voglio precisare ancora una volta anche se è stato già detto che noi ci occupiamo di questo piccolo gruppo e non del Novecento italiano che si formerà dal 26 in poi e poi andrà avanti praticamente per metà del secolo quando il piccolo gruppo dei sette è ormai non più coeso per vari motivi perché dura pochissimo tempo come unione. Certo loro continuano a presentarsi alle biennali, a mostre internazionali, mantengono anche dei rapporti fra loro di amicizia però il gruppo non è più veramente un gruppo se non in questi pochissimi anni. Quindi ho preso in considerazione, non era possibile voi capite prendere in considerazione il Novecento sarebbe stata una cosa impossibile perché dal 26 in poi diventa un carrozzone di artisti più o meno legati o a Margherita Sarfatti o ad altri critici. In mezzo a questo carrozzone ci sono anche artisti di pregio ma comunque diventa un qualche cosa che non si può più analizzare come Novecento. Si dovrebbe analizzare eventualmente passando attraverso l'esperienza e la poetica dei vari pittori. Mi sono spiegata? È chiaro questo concetto? Perché a volte, no chiedo a voi, perché a volte si dice Novecento e uno pensa ma si intende un secolo? Si intende un secolo? Tant'è vero che quando Bucci diede questo nome Carrà si risentì vedendo in lui una fanfaronata, un qualche cosa di esagerato, cosa che non era assolutamente perché nell'idea di Bucci era semplicemente voler dire, voler esprimere attraverso la teoria e le opere quella che doveva essere una tematica rinnovata in senso purista, in senso purista una tematica a cui aderivano questi pittori che venivano da esperienze diverse, da luoghi di origine diversi perché i luoghi di origine, al di là di quello che si può pensare, influenzano molto il pensiero, l'espressione di un artista, sia esso un poeta o un pittore o un architetto e non dobbiamo immaginare che questi sette hanno un'illuminazione nel 22 e formano un gruppo. Chiaramente questa formazione era stata preparata da molti fatti storici che erano successi, da molti ripensamenti sull'arte, da saggi che erano stati scritti ed erano stati editi di importanti artisti e critici letterari. Quando noi abbiamo messo in evidenza nell'altra lezione in cui abbiamo parlato in maniera diciamo più ampia, nel senso più teorica, anche teorica dei principi fondamentali di questo movimento, ci siamo spesso riferiti alla parola purismo. Allora il purismo era, cos'è il purismo? È una teoria estetica, una teoria estetica che è proprio nata da che cosa? Dalla critica al cubismo. È stata teorizzata fra gli altri dalle Corbusier. Allora, diciamo che il cubismo ormai era visto come qualcosa che aveva proposto delle astrazioni troppo complesse e non sembrava più adatto, aderente alla realtà del momento. Infatti il saggio di cui si parla di purismo è proprio intitolato a prelecubismo. Quindi si vuole ritornare ad una filosofia neoplatonica che si interessasse, diciamo, si interessasse di un'espressione della pittura molto più semplice. È una pittura che in qualche modo avesse depurato, decantato tutti quegli aspetti eccessivi. La pittura, così come la scultura, così come l'architettura, non si fa assolutamente, come dire, una divisione delle arti. E tutto questo perché si sosteneva che si doveva arrivare il più possibile a una perfezione globale. Qui potete riagganciare anche questo benedetto concetto di sintesi che studiando questo periodo torna proprio come quasi una parola, senza quasi, che è una parola chiave. Allora, cosa doveva fare la pittura? Doveva tornare ai canoni dell'antichità. Ecco, quindi i canoni dell'antichità, senza copiare l'antichità. E doveva fare ricorso, si pensava anche alla sezione aurea, alla divina proporzione. Quindi vedete che se si deve fare ricorso al numero, al pedagorismo, alla sezione aurea, bisogna che i dipinti siano molto, in qualche modo, semplici, essenziali e siano proprio decantati, è il termine giusto, tra tutto ciò che è eccessivo. Ovviamente questi sette pittori, voi capite che hanno una formazione inizialmente diversa, poi provano ad avere delle esperienze comuni e vengono da ambienti diversi, c'è chi è viaggiato molto, chi ha viaggiato meno, e non tutti arrivano ad avere una, arrivare a una sintesi, a una modernità classica, ad eliminare i particolari, perché per alcuni non era possibile eliminare i particolari, in quanto facevano parte della loro ispirazione, avevano diciamo una verbo narrativa. Quindi vedremo che pur facendo parte di questo gruppo, pur aderendo formalmente a questi principi, si esprimono ovviamente con la loro sensibilità e con il loro stile particolare, anche se delle caratteristiche comuni per il periodo che veniamo noi ad analizzare, ci sono senz'altro. Il primo che prendiamo, qui non c'è scritto sotto anche, dunque mi pare, non c'è scritto sotto Trieste, no Trieste, dove è conservato, mi dovete scusare, dove è conservato, se lo mettete appena un pochino più in su, no se no, dunque, Donne al caffè del 24, dovrebbe essere a Milano, vero? Dovrebbe essere a Milano nel Museo del Novecento. Sì, noi leggiamo così. Sì, allora io ho cercato così, ho trovato, perché non sempre ho trovato, ma qui sì. Allora, vediamo che questo pittore nasce a Trieste, già l'essere nato a Trieste è significativo, perché voi sapete la posizione di Trieste, quindi è una città piena di influssi miteleuropei e questo pittore è sensibile a questi influssi. Infatti, se noi analizziamo la sua pittura, adesso non lo potremo fare in maniera chissà quanto approfondita, perché le immagini sono abbastanza, vediamo che è molto presente, sente perlomeno come un qualche cosa che lo coinvolge, lo stile dell'art nouveau che si era espresso in Germania, il post-impressionismo e anche la secessione viennese. Questa è la sua formazione e tutta la sua opera, prima del 23, è improntata a questo tipo di formazione. Una volta arrivato a Milano, perché vedrete che questi artisti che di Milano non sono, tranne Malerba, sono tutti di altri posti, di altri luoghi, finiscono poi a Milano, perché Milano in quel momento era considerata, più di Roma, il centro dell'arte italiana, perlomeno dell'arte italiana che doveva essere adeguata, cercava di essere adeguata alle avanguardie ed essere al passo con i tempi, non per niente il futurismo nasce a Milano. E quindi vi dicevo che tutte queste espressioni artistiche sono presenti nella sua produzione prima del 23, ma noi non andremo a vedere questa produzione, ovviamente a noi ci interessa quella dopo il 23, perché lui già dal 20 al 26 tutte queste esperienze che ha fatto ovviamente sono validissime per la sua per la sua formazione. Un artista non può mai arrivare a fare qualcosa di nuovo se non ha rielaborato e studiato e messo in critica tutta la sua formazione e proprio tra il 20 e il 26 rielabora l'arte e la porta a questa perfezione. Per quello ho parlato di purismo che poi c'entra un po', che entra in tutti gli artisti che prendiamo in considerazione e quindi cerca di portare le sue esperienze precedenti, molto importanti, ad un grado di perfezione e di purificazione. Come si fa questo? Non basta solo togliere i particolari e se vediamo in quest'opera i particolari ci sono anche, però quest'opera lo stesso dimostra un grado di purificazione perché questo avviene attraverso il gioco plastico dei volumi e qui il gioco plastico dei volumi fra queste due donne, queste due signore, amiche che sono in un caffè è abbastanza evidente. Quindi poi anche l'acromia, l'acromia in questo periodo di pittura per questi artisti quando si esprimono in questo particolare periodo deve essere diciamo una cromia un po' smorzata e non più certo scintillante, non più certo scintillante perché non era più diciamo adatta ad esprimere i volumi, ma era importante che ci fosse un rapporto come dire chiaroscurale, chiaroscurale che mettesse in evidenza le varie forme. Allora andiamo a vedere, vediamo qui questi sono due signore, due signore in un tavolino, in un tavolino ad un caffè e vi può sembrare che sia una diciamo una qualunque scena di vita quotidiana. Certo è una vita quotidiana, però non è più la vita quotidiana che era espressa dagli impressionisti in cui vediamo che c'era proprio l'attimo, che era colto l'attimo, è colto oppure dai futuristi, che non era colto il solo attimo ma il susseguirsi degli attimi perché con il novecento cambia il concetto di tempo e non è una cosa da poco e forse una delle cose più importanti che avviene è che si ritroverà in moltissime in moltissime opere, si troverà in quelle opere in cui l'artista, in questo caso il pittore, riesce proprio a mettere in pratica quelli che erano i principi programmatici del gruppo. Quindi questo concetto di tempo non è più l'attimo colto dagli impressionisti, non è più la velocità, il susseguirsi dei futuristi, invece diventa un qualche cosa di fermo, diventa un tempo che è un concetto di tempo eterno, un tempo bloccato, un tempo pensoso, un qualcosa che vale sempre, anche se il soggetto è un soggetto potremmo dire semplicemente come dire futile insomma, perlomeno quotidiano. Allora queste sono figure come vedete pensierose, figure pensierose, ma lui se voi ci pensate bene le ha vivificate in qualche modo con un ritorno al passato, perché vedremo in questi artisti spesso un ritorno ad un passato importantissimo per l'arte italiana. Per esempio qui c'è un qualcosa che ci rimanda a Carpaccio, alle cortigiane di Carpaccio e sono infatti quelle la fonte di ispiratrice, però qui le donne sono messe, sono poste in un caffè, quindi c'è un ritorno al pensare al passato, questo passato che è imprescindibile come base di formazione per questo gruppo, però queste signore sono in un ambiente quotidiano, c'è la sigaretta, uno ha la sigaretta in mano, ci sono i pasticcini, c'è il porta sigarette, tutto è inequivocabilmente contemporaneo, quindi è questa classicità moderna che si ottiene in qualche modo e poi se guardate l'espressione di queste donne vedete che sono un po' sognanti e anche poco concentrate su qualche cosa che a noi sfugge e si è parlato di bovarismo. Questa opera ha fatto venire in mente il bovarismo che era una corrente di pensiero, Madame Bovary di Flaubert è stata fatta la metà dell'Ottocento ed era una corrente di pensiero il bovarismo che metteva in evidenza come la gente, le persone cercavano di uscire, di evadere dalla monotonia della propria realtà, in particolare nelle piccole città di provincia, nelle piccole realtà, nelle piccole città di provincia, per ambire ad una suggestione, per ambire a qualcosa di superiore a quelle suggestioni, a quelle emozioni che potevano esserci insomma nei grandi centri. Quindi queste donne si legge un'insoddisfazione che nasce tra la distanza della loro vita quotidiana con queste piccole cose che vanno facendo e quella invece che diciamo si vorrebbe, già che vado avanti forse un po' più veloce perché non so quante sono, ma mi sa che sono in Parigi, lei può cambiare immagine. Quando abbiamo parlato dei temi, non mi ricordo se l'altra volta ho messo in evidenza quali erano i temi, le iconografie predilette di questi sette artisti, mi pare che è stato detto che loro amavano rappresentare i sentimenti eterni, non è questo caso perché questo caso è più un'allegoria, dei sentimenti eterni, sentimenti eterni come l'amore, i figli, la maternità che poi vedremo nel caso di Bucci anche gli amanti possiamo far rientrare perché lui ha sempre una vena ironica. Qui possiamo rientrare, poi ci sono temi temi mitologici, temi anche biblici diciamo, sì biblici. Qui invece abbiamo proprio un quadro con, se dovessimo dire qual è il soggetto, potremmo dire che il soggetto è un'allegoria. Ecco, un'allegoria qui dell'autunno rappresentata, vedete, con un paesaggio che si intravede, con un'apertura su un paesaggio che si intravede e l'energia, il volume, lo vedete chiaramente nella rappresentazione di queste figure e anche il fatto che ci sia per esempio questa brocca qui sulla destra, questo grande fico spaccato qui sulla sinistra, questa portatrice d'acqua perché lei ha una brocca in testa, quest'altro personaggio, sono in qualche modo, come pure il cestello ovviamente è una natura morta a sé, sono anche dei pretesti, dei pretesti che permettono all'artista di sviluppare la sua capacità nel rendere il volume, lo si vede, il volume nel rendere le forme. Poi c'è sempre qualche cosa che alleggerisce il tutto, come per esempio quel cappello azzurro che è qualcosa di legato alla moda del momento. Quindi ci sono questi volumi solidi e la composizione, voi dovete tener conto questa composizione, quando si studia un quadro la composizione tra le cose fondamentali, se non proprio la fondamentale da cui si parte. La composizione è una composizione classica, io direi quattrocentesca quasi, infatti il desiderio di questi artisti è riscoprire anche ciò che è lontano nel tempo arcaico, diciamo arcaico o molto lontano del tempo. Però questo uomo che viene rappresentato è sempre abbastanza malinconico e non si può non tener conto del momento storico in cui si vive, è una qualche cosa di imprescindibile, certe cose non si possono far rivivere semplicemente, bisogna immergerle nel reale. Infatti questo non è più l'uomo rinascimentale con le sue certezze, anche se imitate in un tempo molto breve. Ma qui si sente, se uno guarda bene le figure, che la realtà dell'uomo è molto enigmatica. Voi non dovete scordarvi mai che c'è stata una guerra terribile, c'è stata una guerra che ha visto anche moltissimi di questi artisti parteciparvi, parteciparvi e rimanere scioccati da quello che videro al fronte e che comunque ha gettato tutta l'umanità in un ripensamento esistenziale. Anche il fatto che ci siano questi rappelli all'ordine che non sono soltanto in Italia ma che sono in tutta Europa, sono anche determinati da una riflessione, da un bisogno di continuità, da un bisogno di certezze che le avanguardie avevano spazzato via completamente. Lo stesso Picasso, Picasso è tutto perché veramente è un pittore enorme, grande, più che grande, ma lo stesso Picasso che aveva rinnovato in maniera sostanziale la pittura nel periodo in cui viene a Roma per disegnare i sipari dei balletti russi e mi sembra che sia il 16-17 così, comunque verso la fine della guerra, ci propone delle figure solide, volumetriche e molto, anche a volte molto statiche e c'è come un momento in cui abbandona le sue sperimentazioni a cui ritornerà diciamo molto più tardi. Va bene, allora possiamo provare ad andare avanti. Sì, ecco questa opera è un'opera abbastanza significativa. Voi dovete tener conto che questi artisti, l'altra volta mi diceva, pare Pierluigi dice, ma quanto hanno dipinto? E beh in effetti hanno dipinto molto, moltissimo e nella loro produzione ci sono, come avevo già cercato di dire la volta scorsa, ci sono delle opere di minore, maggior valore come normale, che abbiano dipinto molto, anche moltissimo, è una cosa normalissima. È quello che avviene, quello che ha fatto Van Gogh, che è vissuto 36-37 anni e ha fatto più di 600 opere, perché non è che si può immaginare un lavoro portato a termine come nei tempi antichi. Ovviamente un'opera si riusciva a fare anche in maniera molto, si faceva in maniera molto più veloce, con tecniche diverse e poi questi artisti, diciamo, vivevano di questo e continuamente sperimentavano. Questa guardate subito, vi viene in mente, vedete questa opera e subito pensate che abbiamo di fronte la Venere di Tiziano, la Venere di Urbino, la Venere di Tiziano, penso che vi venga subito alla mente, vi può venire in mente un po' meno, ma anche Manet con la sua Olimpia, quindi il tema che viene rievocato, diciamo, è un tema classico e non lo si vuole nascondere, anzi, assolutamente. Ecco, questa Venere quindi è enigmatica, perché si riallaccia ad un tema molto lontano del tempo, quindi c'è una moderna classicità, si riallaccia ad un passato ormai lontano, però l'atmosfera è moderna, l'atmosfera è moderna, moderno è il comodino, tavolino su cui vengono poggiati quegli oggetti, moderna è la stanza che non è certo un importante palazzo, palazzo antico, ma è un apportamento di quel secolo. E poi c'è questo punto tavolino che è molto semplice, poi non ci sono particolari elementi aulici se vogliamo escludere quel tendaggio che non sembra molto idoneo per un appartamento moderno, visto che è un appartamento, diciamo, di quel periodo. E poi c'è un liuto, quel liuto è niente meno che un liuto alla baskenis, questo pittore italiano specializzato nelle nature morte, con solo strumenti musicali, era proprio una sua caratteristica, una sua unicità. Quindi sono questi oggetti, anche perché non si capisce cosa stia a fare lì in fondo ai piedi questo liuto, ma è messo volutamente così, perché è messo in questo modo, si mette in evidenza un'atmosfera un po' straniante, di cui non è, si capisce, si capisca completamente tutto. Poi se noi osserviamo attentamente la scena, questa scena addirittura sembra, come dire, qualcosa di non vero, sembra quasi una rappresentazione teatrale, perché secondo molti critici, guardando bene la donna non sembra dormire, ma piuttosto recitare la parte, diciamo, della dormiente, perché la posizione della mano, questa posizione della mano non sembra troppo verosimile per una persona che stia, diciamo, dormendo, per una persona assoppita. Quindi ci sono molte incongruenze, ci sono molte incongruenze e nell'insieme, però, voi vedete che quest'opera è un'opera notevole, di questo pittore è considerata una delle opere, diciamo, forse più importanti. Io andrei avanti perché dopo, se no, mi sa che non ce la faccio. Oddio, questo qui è un po' inquietante, a mio avviso. Questo signore qua, me lo mette un pochino più su, non si può mettere un pochino più su. Allora, questo è la testa d'uomo, però più che altro io lo chiamerei studio di carattere, è del 21 e questo qui è a Macerata. Voi dovete sapere che, sì, a Macerata è stato dato, quando è stata fatta una mostra importante negli anni Ottanta, è stato dato in prestito. Allora, prima diciamo qualcosa su Leonardo Dudreville, ecco, la famiglia, una famiglia di origine francese, che si era poi trasferita a Venezia, è trasferita a Venezia dove lui nasce, ecco. Lui interrompe gli studi classici, molti di loro hanno iniziato con degli studi classici e poi interrotti per dedicarsi alla pittura e si mette a frequentare le lezioni dell'Accademia di Brera dove incontra Bucci. Incontra Bucci e per tutto il tempo della loro vita, Bucci muore parecchio prima, comunque ci sarà fra loro una forte amicizia. Inoltre loro nel gruppo erano i due che in qualche modo erano un po' diversi dagli altri perché secondo la Sarfatti, che era questo critico onnipresente che dettava molte condizioni, erano coloro che non riuscivano ad arrivare ad una vera sintesi e prevaleva in loro la verve, lo spirito narrativo che sentivano come naturale e che porterà poi ad esiti anche diciamo veramente veramente notevoli. Infatti per ritornare all'amicizia con Bucci, l'amicizia con Bucci nasce nei primi anni del 1900, intorno al 1906, quando lui va a Parigi, anche se ci starà poco a Parigi, non troppo, tornerà presto in Italia. Comunque tutta la sua produzione nel periodo precedente al 20 è una produzione che è influenzata dal naturalismo, dal divisionismo lombardo, non è assolutamente ancora, non è una produzione diciamo di avanguardia. Poi nel 20 lui firma anche lui questo manifesto, nel 20 firma un importante manifesto contro tutti i ritorni in pittura e nel 22 fa parte del gruppo 900. Allora vediamo cosa possiamo dire di questa testa. Allora, questo è l'artista più scettico, più distaccato del gruppo. Del resto è stato ritrovato il suo manoscritto, il manoscritto di Doudreville, che lui ha redatto, si pensa, perché non c'è una vera e propria data, quando ci sono stati molti interessi verso questi artisti, è stato scoperto nell'archivio di famiglia anche un manoscritto che da lui redatto, si pensa intorno agli anni 40, 1940 circa, e non è proprio un anno preciso, in cui parla molto dettagliatamente del gruppo, delle polemiche, anche ideologiche, che lui e altri avevano avuto anche con la Sarfatti e a cui rimproveravano la vicinanza al regime, cosa che loro assolutamente non tolleravano e non sentivano insomma essere propria. Quindi lui non era mai particolarmente amato e facilitato da questa critica, perché voi dovete sapere che far parte di un gruppo, avere come critico di riferimento un personaggio importante legato al fascismo, amante del duce, come era Margherita Sarfatti, non era cosa di poco conto anche da un punto di vista economico. Voi dovete pensare che questi artisti vivevano del loro lavoro e a volte vivevano con difficoltà, per esempio tutti gli anni parigini, per molto di loro furono periodi diciamo più o meno di fame in cui si arrangiavano come potevano. Quindi per rimanere a parlare di questo pittore, il suo è un percorso estraneo, ecco questo vi dovete ricordare, è un percorso estraneo al concetto di sintesi che era la base di questa benedetta classicità moderna novecentista. Infatti lo vedete analizzando questo studio di carattere, questa testa d'uomo, questo volto è indagato non in maniera sintetica ma in maniera sostanzialmente analitica direi anche abbastanza, come dire, impietosa perché sono messe in evidenza i gonfiori, le rughe e tutti i cedimenti e le imperfezioni che possono esserci in questo volto. Anche perché Dudreville si sente abbastanza vicino anche ad un realismo di stampo di ascendenza, diciamo, fiamminga e quindi questa ricerca del particolare, lui era molto forte. C'è una ricerca, diciamo, così realistica che non ammette troppe semplificazioni sintetiche. Quindi il suo resta un fluido realismo. Adesso c'è un'opera, dopo possiamo passare a un'altra opera, sempre di quest'artista. Possiamo andare avanti? Sì, quest'opera la vediamo solo così velocemente. Questa qui è a Fossombrune ed è la cucitrice. Poi vi parlerò, se ce la faccio, se ci arrivo, perché a Fossombrune ci sono tante importanti opere di questi, oltre che di Bucci, anche di questi artisti del Novecento e anche di scultori. E comunque, anche qui vedete, c'è una forte ripresa di realismo, ma qui siamo già in anni molto, molto, molto avanti perché siamo nel 38 e vado oltre perché è questo, che è opportuno che io faccia così, perché qui l'ho messa solo perché ce l'avevo, si vede a portata di mano. Ecco, quest'opera, guardate bene, è un'opera, diciamo, è una natura, una natura morta. Abbiamo detto che la natura morta è un altro tema iconografico tipico di questo periodo. L'opera si riferisce ad Achille Funi. Achille Funi è nato a Ferrara, è nato a Ferrara, ma anche lui si trasferisce presto, si trasferisce presto a Milano e quindi si trasferisce a Milano e perfeziona i suoi studi a Brera. Quindi Brera è molto importante, anche le esposizioni che si fanno a Brera, un po' un crogiolo per tutti questi artisti. Quindi conosce gli artisti che frequentano Brera, Boccioni, Carrà, Sant'Elia, Sant'Elia è un artista che morirà, poveretto, durante la guerra, sarà tra i volontari e morirà, Doudreville, insomma tutto questo gruppo che si chiamava Gruppo Nuove Tendenze. Quindi lui allo scoppio della guerra si arruola nel battaglione ciclisti, battaglione volontari ciclisti. Questi artisti sono tutti in questo battaglione e quindi vediamo che progressivamente abbandona tutte le scansioni futuriste e si avvicina al classicismo. è anche lui uno dei fondatori appunto di Novecento e quindi diciamo che vedremo in questa opera delle caratteristiche, un'opera del 21, ma già vediamo delle caratteristiche che rientrano proprio in questa tendenza, in questo diciamo un po' cambiamento di stile. Inoltre lui, questo è molto importante perché con il recupero delle tradizioni e in questo caso parliamo di tradizioni italiane, delle nostre tradizioni, alcuni pittori si appassionano a delle imprese decorative anche di grandi proporzioni e quindi la pittura murale, la pittura da fresco, la pittura murale è tipica, caratteristica per antonomasia dell'arte italiana e loro cercano di riportare in vigore una pittura che invece in vigore non era assolutamente più. infatti lui proprio firma il manifesto di Sironi, quello che è considerato Sironi il più grande di questi artisti, quello che riesce a mettere in opera veramente in maniera personale i principi di questa poetica e firma con Sironi il manifesto della pittura morale, poi lui insegnò anche a Brera, è stato un professore questa opera che credo, adesso qui non lo vedo, ma fa parte di una collezione privata perché non è sempre, non trovo sempre la stessa dicitura, è che è denominata strumenti musicali sedia, ecco sedia del 21, quindi la rappresentazione praticamente di soli strumenti musicali è proprio diciamo una caratteristica tutta italiana che è dominata da quel pittore bergamasco di Bergamo che è Baskenis, il pittore della seconda metà del Cinquecento. Allora in questo periodo vediamo che Funi si esprime, ha un progetto, ha un qualche cosa che vuole portare dalla teoria alla pratica e in quest'opera si vede che ci riesce, ci riesce abbastanza, cioè si esprime in un pitagorismo, proprio cos'è il pitagorismo? E' che quel discorso che facevamo anche prima nel purismo, questa contestazione delle astrazioni esagerate del cubismo, il pitagorismo è il numero, il numero perfetto, quindi un rapporto numerico perfetto, rifacendo il pitagora, il cosiddetto numero d'oro che era poi anche quello a cui aspiravano gli artisti nell'umanesimo rinascimento ed è il numero che governa tutte le opere, il numero perfetto governa la natura e governa anche i capolavori architettonici di tutti i tempi. Quindi il numero d'oro è quella proporzione che deve ispirare la composizione di un quadro, è proprio questo, è la costruzione quindi di un'opera d'arte. Sul pitagorismo si era espresso Gino Severini che in quegli anni era a Parigi, infatti lui scrive du cubismo o classicismo, proprio da Parigi appunto si esprime in francese dal cubismo al classicismo in cui parla delle teorie del pitagorismo, chiaro? Ecco, questa è l'opera che la rappresenta. Funi, dopo di questo ci dovrebbe essere Maternità. Ecco, allora guardate bene questa opera Maternità, vi ho detto le opere di sentimenti eterni, sentimenti sempre presenti in qualunque momento storico. Cosa più della Maternità? Infatti in questo periodo la Maternità è un tema molto praticato. Forse avrete presente quella famosissima, anche veramente molto bella, di Gino Severini, una ce n'è anche apprezzabile, però io non l'ho messa qui, di Bucci. È un tema praticabile, molto sentito. È sentito sia perché rimanda a questo sentimento eterno, sentimento indissolubile, ancestrale direi, rimanda a un archetipo su cui non si può assolutamente porre nessuna discussione, ma anche perché la Maternità dà il senso proprio compiuto della rinascita, della ricostruzione dopo la drammaticità della Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 21 infatti e quindi è molto praticato anche per questo. Allora cerchiamo di vedere l'impianto compositivo che poi troveremo anche in un'altra opera molto simile. Allora l'impianto compositivo è un impianto anche qui, un impianto quattrocentesco. Vedete che qui rimane un po' schimba, però c'è evidente una balaustra, è una balaustra e la balaustra era molto usata nelle opere quattrocentesche e anche cinquecentesche e la balaustra ha una funzione prospettica, la prospettiva che era il punto fondamentale cardine dell'arte italiana, del periodo dell'umanesimo ed era comunque quello che si ricercava da giotto in poi e da sempre, era stata completamente messa al bando, quasi vituperata dalle avanguardie e non era più questo cardine con cui tutti dovevano fare i conti. Invece qui, non solo con lui, in questo caso lo vediamo con lui, la funzione prospettica torna ad essere un elemento fondamentale. Vediamo che questo spazio chiuso, questo è un interno, però in fondo sulla sinistra è sfondato da questa finestra, da questa finestra, da questa apertura e da questi, se voi vedete questa apertura, cosa c'ha questa apertura? Mostra un edificio, mostra un edificio semplificato, è un edificio che assolutamente sembra essere moderno, un edificio legato all'architettura del momento in cui si sta vivendo. Quindi il tema è senza tempo, è un tema senza tempo, un tema senza, diciamo, niente di particolare su cui ci si sofferma, ma è un tema che serve moltissimo a mettere in evidenza questo studio dei volumi. Generalmente le donne sono rappresentate più o meno in questa posizione, anche il tipo di vestito con questo scollo tondo fa parte di questa ricerca volumetrica e vedete che c'è una natura morta e nella balaustra ci sono dei pomi, c'è della frutta che serve come spunto per questa ricerca volumetrica e per questa capacità di ombreggiare del chiaroscuro e deve mettere in evidenza ovviamente il volume. Quest'opera è stata esposta alla Biennale di Venezia e appartenne alla Sarfatti, evidentemente le piaceva molto, Funi era di quei pittori che a lei andavano particolarmente a genio, che gli sembravano adatti a trasporre nelle loro tele i principi in cui lei credeva. Questa figura idealizzata, quindi fuori del tempo della mamma, era considerata veramente molto ben riuscita da questa critica d'arte che era una donna di altissima cultura, invece notava che non si era riusciti ad arrivare a questa perfezione nel bambino. Chiaramente io, che non sono una critica d'arte, però noto perlomeno una differenza, una differenza tra i due personaggi. Il bambino mi sembra qualcosa di, qualcosa no poverino, mi sembra una persona realizzata in maniera molto più, come devo dire, realistica, ma ha un realismo diciamo così, molto semplice, non adeguatamente raffinato se si tiene in conto invece dell'ambiente che nella semplicità ha però qualcosa di sofisticato, qualcosa di puro. Anche questo vaso messo in quella posizione, anche questo cartiglio, vorrei che vi soffermaste sul cartiglio, che è proprio un modo tipico usato dai pittori quattrocenteschi, mettere il cartiglio nella balaustra in cui ci poteva essere il nome di un personaggio, il loro stesso nome, la loro firma, oppure un motto. Qui c'è un cartiglio e c'è una rosa e ovviamente rimanda all'amore, in questo caso all'amore materno. Insomma è un'opera abbastanza importante, abbastanza diciamo notevole. Bene, allora fin qui ci siamo, quindi abbiamo questa immagine fissa nel tempo, proprio il tempo del Novecento. Detto questo io andrei avanti come eravamo andati, adesso cosa c'è? Adesso c'è la terra, è vero? Questa è la terra. La terra è sempre del 21 ed è, anche questa dovrebbe essere in una collezione privata e siamo di fronte anche qui ad una allegoria, siamo di fronte ad un'allegoria in cui l'artista ci presenta un paesaggio semplificato nella sinistra, c'è il solito oggetto, vedete questi oggetti, queste brocche panciute, sono ricorrenti, anche questo frutto isolato, perché danno adito allo studio delle luci e delle ombre, qui vedete anche l'ombra, quindi anche questo corrisponde a questa diciamo, a questi temi. Inoltre questa giovane, questa giovane donna rappresentata ci mostra un vassoio della terra, con i frutti ovviamente della terra, in cui i colori della terra qui sono abbastanza vivaci, a differenza di tutto il resto, dove i colori sono abbassati e smorzati e pur in questo contesto semplice, perché lo vedete dal tavolino, il tavolino ci dà l'idea di qualcosa di quotidiano, di semplice, anche quella brocca che poi sembra essere semplicemente un urcio, però ci dice che c'è uno studio del pittore, uno studio profondo della pittura italiana passata, perché se voi andate a vedere un'opera di Tiziano che si chiama Lavinia, che Lavinia mi pare che fosse sua figlia, Lavinia, vedete che c'è proprio lo stesso atteggiamento nel tenere in mano sulle mani, questo lei mi pare che abbia un cesto, questo comunque vassoio con la frutta, il paesaggio quindi la frutta molto dettagliata, molto ben definita, il paesaggio schematizzato invece, molto geometrico, ecco quindi calcolato in maniera geometrica, come in maniera geometrica, secondo la loro forma, il loro peso, sono spesso calcolati gli oggetti. Allora, povera me, andiamo avanti, eccoci, adesso salterò qualcosa, questo non posso saltarlo, cercherò di essere più sintetica, questo è un tale Umberto Notari che era un personaggio importante legato al mondo della Sarfatti ed era un direttore di riviste, insomma, era un intellettuale, era un intellettuale. Qui l'impianto compositivo, come voi ben vedete, è lo stesso impianto che abbiamo trovato precedentemente in maternità, evidente, con questo taglio quattrocentesco. Ecco, l'opera quindi è proprio la rappresentazione della moderna classicità. Vediamo la classicità nella rappresentazione frontale di questo personaggio, vediamo la classicità nel modo in cui lui ci presenta un foglio, un foglio in cui attesta di essere veramente lui, perché lì c'è scritto che quella persona è veramente Notari, veramente Notari, a Umberto, ecco si chiama, Umberto Notari. Però c'è nello sfondamento diciamo della figura verso destra c'è una rappresentazione molto puntuale, anche se con qualche licenza artistica, della Milano contemporanea, anche se ci sono opere antiche, perché quella è Piazza Cavour di Milano e quindi lui mescola qualcosa di classico e di antico con degli elementi assolutamente moderni. Guardate, da quei due archi escono dei tram, proprio simbolo della modernità, simbolo della modernità, non so se riuscite a vederli, io li riesco a parlare. Poi la rappresentazione, una rappresentazione il più possibile sintetica degli edifici, addirittura che fra questi due edifici sulla destra sono stati ravvicinati, perché lì ci passerebbe una strada, proprio per dare questo senso di sintesi novecentesca. Io adesso devo andare, quindi questo fatto per blocchi, addirittura guardate anche queste nuvole, queste nuvole che c'erano anche in maternità, sono delle nuvole rese al modo di mantegna. Quindi vedete questi pittori, alcuni, in alcune opere, fanno, ci danno diciamo qualcosa di molto, molto importante e di molto, diciamo, in qualche modo studiato. Sono artisti che fino agli anni Ottanta, vi ho già detto, non si conoscevano, perché pesava su di loro un retaggio, diciamo, legato al fascismo, anche se alcuni di loro erano lontanissimi dal fascismo, tranne Sironi, erano lontani da questa ideologia. Poi sono venuti fuori degli archivi, l'archivio di Doudreville, l'archivio di Bucci, che i familiari, chiaramente ancora superstiti, alcuni sono nati, sono morti negli anni settanta, hanno messo a disposizione e hanno permesso la rivalutazione, lo studio di tutte, di tutte queste opere. Adesso c'è molta attenzione a queste opere, ma erano praticamente considerate, direi nulla, fino, no direi, non lo dico io, era così, fino agli anni Ottanta, anzi non se ne poteva parlare, perché se in certi anni, tipo gli anni settanta in Italia, quindi dopo il fascismo parlavi di questi artisti, li liquidavano semplicemente come artisti di regime. Quindi ci avevano come un'adamnazio memorie. Andando avanti ci dovrebbe essere un'opera, questa qui no, questa qui la lasciamo perché non posso andare avanti. Ecco, se no non ci riesco questa, così adesso abbiamo Malerba, che è ovviamente Emilio Malerba, che è un altro, è un altro artista, un altro artista che è l'unico milanese, è l'unico artista milanese che muore abbastanza giovane, che muore nel 26, era nato nell'80 e che quindi si defila ovviamente prima degli altri, anche per motivi di salute, non può partecipare alla guerra, che è stata un'esperienza fondamentale per molti di loro. Comunque lui studia, anche lui ha l'Accademia di Brera e quindi va a Parigi, va a Parigi presto, però non è troppo interessato a quella che è la lezione base, la lezione degli impressionisti, anche perché gli impressionisti sono tutti ancora vivi e lavorano. lui è interessato alla tradizione verista scapigliata lombarda e quindi lui a questo, a questo soprattutto si attiene. Fa molte mostre, anche a Milano, ottiene anche molti, molti riconoscimenti e rimane, è sempre considerato, diciamo, è considerato un esempio della pittura dal vero. Tant'è vero che una sua opera, quando espone a Milano una sua opera, Il cappello nero, di una lettura acquistata dal re, quindi è un pittore apprezzato anche nel periodo giovanile, per intenderci, molto giovanile della sua pittura, poi mi pare che muoia a poco più di 40 anni, quindi è giovane e muore anche. Detto questo, vediamo che nel 22 anche lui partecipa alla Biennale di Venezia ed è fra i fondatori del Novecento, che esponevano, ricordatevi, perché l'avevamo detto anche l'altra volta, presso il mercante, la galleria del mercante, Lino Pesaro. Bene, allora, detto questo, vediamo che cosa vuole rappresentare, perché qui ci può sembrare un semplice, un nudo con un animale che è un cerbiatto, che non so cosa vuole dire, secondo voi, qui siamo di fronte a un'opera veramente semplificata, perché se guardate le colline, le colline sono praticamente di gusto, un paesaggio è di gusto proprio novecentista, perché lì ci sono questa rotondità delle colline, i cilindri, gli alberi sono spogli e messi in evidenza soltanto il cilindro, che è il cilindro diciamo del tronco e dei rami, evidente è anche il chiaroscuro, e poi gli elementi analitici sono completamente eliminati, qualche rara foglia, ma per il resto vediamo che non ci sono assolutamente, è tutto, è un'opera in cui si può dire che regna sovrana la sintesi volumetrica. Comunque questo nudo che è stato appunto presentato alla pienale del 24, diciamo che riprende un tema, questo tema non è semplicemente questo nudo che noi vediamo, così di questa donna un po' corpulenta, ma è un tipo di tema che era molto diffuso nella pittura post-impressionista, ma era anche tipico del ritorno all'ordine, cioè si vagheggia questa donna che è così tranquilla, che ha questo animale che così dolcemente si appoggia a lei, è un vagheggiamento all'età dell'oro, un ritorno a un'età dell'oro, questo desiderio di tornare a un'età migliore, anche qui influisce molto il discorso della guerra, in cui la natura e gli uomini vivono in armonia e quindi si supera il disagio che anche la civiltà e gli eventi dell'uomo avevano apportato. Secondo me, secondo più o meno tutti, questa donna può essere paragonata a Diana, anche perché il gerbiato non la allontana certo da lei, oppure ad una minfa, non una semplice donna, abbiamo detto che i motivi mitologici, i temi mitologici erano amati da loro e quindi vediamo questa Diana che è un'arcadica, che si accosta con confidenza a questo cerbiattino. Comunque è un paesaggio novecentista, vediamo che i colori sono non colori naturali e viene eliminato il colore naturale, ma l'opera è una variazione di toni, solo una variazione di toni, è un gioco molto ben fatto di chiaroscuri. Andrei avanti. Allora, cercherò di andare avanti, di dirvi qualche cosa di Oppi, Oppi è di Bologna. Oppi è di Bologna, forse conviene che io passi direttamente alle opere. È di Bologna, anche lui ha la solita preparazione, che è una preparazione anche se da autodidatta, ma che fa attraverso i viaggi, i viaggi sono importantissimi. Lui viaggia in Europa e frequenta addirittura a Vienna l'Accademia di Clint e quindi ha anche lezioni di anatomia sempre a Vienna. Poi va a Parigi, a Parigi si avvicina a Severini, conosce Picasso e soprattutto conosce di Picasso, ecco vi dico solo questo che è bastante importante, il periodo blu di Picasso. Non so se avete un po' presente, noi l'avevamo trattato tanto tempo fa, il periodo blu di Picasso. Quindi sembra che, anche se lui non lo vorrà mai ammettere, ma sembra che la sua pittura risenta molto di questa conoscenza. Lui dirà di non averne avuto un'influenza moderna, ma così sembra. Durante la guerra soffre molto perché sarà fatto prigioniero, a un certo momento però finita la guerra va a Parigi e sta a lungo a Parigi. Una volta rientrato in Italia è fra i fondatori del Novecento, anche se era un temperamento che rivendicava molto la sua autonomia e infatti guardava molto anche al suo interesse perché quando questi pittori dovevano insieme presentarsi e così si presentarono e furono in sei alla Biennale di Venezia, lui riuscì ad avere una sala tutta per sé e anche una sala importante dell'esposizione e da solo riuscì a esporre e quindi loro tollerarono questa sua defezione. Quindi a partire dal 21 la pittura conosce, vediamo che c'è una svolta neoclassicista, se guardate bene anche allo sfondo, lo riuscite a vedere anche qui. Quindi le forme che agli esordi, ovviamente è una formazione viennese, quindi agli esordi non potevano che essere gracili, delle forme leggere, anche le giardie, diventano invece molto più forti, molto più plastiche. Allora, vediamo qua, questa opera, sono chiamata Le Amiche, è chiamata Le Amiche ed è a Verona. Quando ritorna in Italia dipinge, diciamo, queste opere nitide, con delle formule molto, delle forme da punto di vista, diciamo, stilistico, molto nitido e lineare e in questo rientrano sia questa opera, sia i tre chirurghi che anche altre opere, la Giovani Spose, eccetera. è un artista molto conosciuto all'epoca, addirittura forse quello che piace molto in questo momento, molto conosciuto, che riesce anche a vendere, perché queste figure appunto sono plastiche, volumetriche. Io non so se dopo ci sono i chirurghi, ma passo avanti perché rientra sempre in questa tipologia, perché altrimenti non riesco. Io non so fin quanto posso andare avanti. Andiamo alla prossima figura. Andiamo ancora oltre. Questi sono i tre chirurghi, sempre lo stesso studio. Qui invece ci troviamo di fronte ad un altro artista, quello che è veramente un grandissimo artista, che è Mario Sironi, l'artista più importante, diciamo, di questo gruppo. Un artista che nasce a Sassari, però la sua formazione avviene a Roma, perché da bambino già si trasferisce con la famiglia lì. Ha studiato, non so, mi pare che non sia giunto alla laurea, comunque ha studiato ingegneria, ma aveva questa passione per l'arte, per la pittura e quindi frequenta la scuola del Ludo Aripetta, importante perché conosce Balla, Boccioni e Severini, chiaramente sono personaggi importanti e lo saranno nella sua formazione, con loro farà vari viaggi di formazione. Quindi lui in un certo periodo aderisce al futurismo che è la novità del momento, però anche al futurismo lui dà una interpretazione, diciamo, molto personale, molto singolare, più che al futurismo pittorico, aderisce al futurismo dell'escultorio, in particolare quello di Boccioni. Allora, interventista, anche lui si arruola nel battaglione Lombardo, perché dei ciclisti e quindi partecipa alla guerra. Tornato dalla guerra farà molte mostre, riuscirà a disporre e incomincia a dipingere quelli che sono i suoi temi caratteristici, che sono i paesaggi urbani. Subito la Sarpata intuisce, qui siamo di fronte a un artista veramente fuori del comune, di lui non si è saputo niente, cioè di lui non se n'è più parlato come di un grande artista fino a dopo gli anni Ottanta, perché lui veramente, a differenza di molti altri, aderì al fascismo e credete fermamente che il, non per opportunismo, credete fermamente, non so come abbia potuto fare, ma così è andata, che il fascismo potesse rinnovare l'Italia, ridare vitalità a questa nazione, fu un po' frustrata dopo la guerra, nonostante che poi la guerra sia stata vinta e chiaramente questo gli ha voluto dire essere isolato e vivere anche molto molto tristemente degli anni della sua vita. Allora, cosa potrei dire? Che questi paesaggi urbani li abbiamo messi in evidenza, poi oltre ai paesaggi urbani, lui sì, paesaggi urbani che, ricordatevi questa parola, che vengono colti in maniera costruttiva, vedete come sono messe in evidenza tutti i volumi, le forme geometriche delle varie costruzioni. E poi lui ha un altro tema che è un tema ricorrente. Il tema ricorrente è la figura, vedremo l'allieva, vedremo l'architetto, vedremo la solitudine. Sono figure che possono sembrare dei ritratti, ma non sono semplicemente dei ritratti. Più che dei ritratti, sono una metafora di un ritratto, diciamo la metafora di quello che vogliono rappresentare e sostanzialmente vogliono rappresentare l'arte. L'arte è lo sforzo che si fa per arrivare ad un'opera d'arte. Perché per Sironi è evidente moltissimo questo desiderio di costruzione e la costruzione avviene soltanto attraverso anche dolore, uno sforzo. Perché i paesaggi urbani non sono dei semplici paesaggi urbani. Difficilmente in un'opera d'arte non si sottende qualcosa di metaforico, è qualcosa che non si riferisca alla vita. Infatti i paesaggi urbani sono una metafora della vita e quindi la vita è piuttosto dura e per costruire l'arte ci vuole uno sforzo, uno sforzo molto, molto grande, uno sforzo molto grande. Perché costruzione deve essere un discorso etico, non solo estetico e quindi c'è proprio una difficoltà, una difficoltà notevole. Sia quindi i paesaggi urbani sia le periferie sono proprio una pietra miliare nella pittura italiana di questo periodo che fanno capire come abbia studiato Cézanne e come riesca dalla semplificazione anche di Cézanne a farne una traduzione diciamo arcaica, primitiva, ritornando all'arte italiana. E quindi tutte le scorie qui del futurismo non ci sono assolutamente più e arriviamo a esiti molto alti. Vado un po' a vedere, forse c'è l'architetto. Possiamo cambiare, ecco. Qui siamo di fronte a un'opera molto conosciuta e molto, anche questa, molto importante. È una delle migliori opere di tutta la pittura italiana del 1900. Quindi qui lui ci rappresenta un'immagine che è avanzata, è messa molto sul davanti ed è ottenuta con la composizione di pochi piani robusti ed è sintetizzata nei suoi lineamenti, nel modo di proporci la testa, di proporci i capelli e l'esaltazione è nel rapporto luce e ombra. Allora abbiamo l'architetto, alle sue spalle vediamo che c'è un vaso, un vaso che anche qui non ha un significato assolutamente decorativo, ma è un discorso che richiama al volume e a come rendere questo volume attraverso le luci e le ombre. Guardate questo, anche la moda natura, vedete dietro? La moda natura che c'è in quella parete non è un qualche cosa che vuole arricchire da un punto di vista, da un punto di vista diciamo decorativo, ma rimanda semmai alla professione, alla professione dell'architetto come alla sua professione rimanda l'arco, come alla sua professione rimanda il capitello che mi pare essere un capitello forse composito, ad un capitello diciamo composito. E quindi siamo di fronte a quest'opera importante, l'architetto ha un'allieva, e vediamo, andiamola a vedere, nella prossima opera è cosiddetta l'allieva, potrebbe essere sicuramente un'allieva dell'architetto, questa donna vedete sempre questi scolli tondi, perché questi scolli tondi mettono in evidenza al cilindro del collo, mettono in evidenza l'ovale, quindi è tutto realizzato, fatto per arrivare allo scopo che si voleva proporre questa corrente artistica. Allora, l'allieva è una giovane donna, allieva possiamo dire dell'architetto, che è una metafora dell'arte ed è circondata da molti, da una serie, da una serie di simboli. È stata paragonata alla gioconda, a una gioconda moderna, mentre la gioconda di Leonardo cosa nasconde? Nasconde il ciclo eterno della natura, il ciclo delle acque indispensabili perché la natura sia fertile, perché possa continuare a vivere. Qui invece non c'è il ciclo perenne delle acque, ma quello eterno dell'arte. L'allieva dell'architetto fa sì che si possa eternare il ciclo dell'arte, l'arte. Allora, questo è stato, insomma, è un notevole capolavoro di ricerca ed è un quadro, diciamo, che vi dico questo, che è abbastanza importante, che è stato scelto da un critico francese che si chiama Claire, per illustrare proprio la copertina del catalogo che lui ha curato sui realismi. È una mostra importantista, molto importante questa dei realismi, le realism. Questa mostra l'hanno fatta a Parigi, l'hanno fatta all'inizio degli anni Ottanta ed è quella che ha contribuito a risvegliare l'interesse per questo periodo. E poi ci sono stati degli studi italiani, importanti, delle mostre in Italia, però forse è stata questa mostra parigina che aveva proprio come manifesto, come logo questo, l'allieva di Sironi. Adesso ci dovrebbe essere la solitudine. Ecco, questa solitudine, questa figura, questa giovane rappresentata, qui c'è un ambiente veramente scarno, non c'è assolutamente niente perché è la solitudine, è una metà, tranne questo arco che ci mette in comunicazione con l'esterno che è importante per il gioco di luci e di ombre e quindi è la condizione, come dire, esistenziale che porta l'individuo ad isolarsi. Ma questo era tipico del temperamento di Sironi perché aveva avuto una vita abbastanza in questo senso sofferta, ma isolato, nell'uomo si genera un'infinita tristezza. Questa tristezza è messa in evidenza dal profilo assolutamente greco di questa ragazza, dalla mossa che ha la bocca, da questi occhi che guardano praticamente all'infinito e dai colori, come vedete, che sono praticamente colori tutti giocati un po' sulle sfumature, però colori proprio non ce ne sono, se non colori molto pacati e molto smorzati. Allora, quindi questo sguardo triste che domina proprio un'architettura addirittura arcaica questa, direi, che va oltre il semplice. Quindi l'uomo vive una forma di alienazione, questa alienazione gli viene anche da vivere nelle città, nelle periferie soprattutto, e quindi non può vivere la vita che assolutamente vorrebbe. E per darci questa impressione io devo usare dei colori freddi, dei colori scuri e la pennellata deve essere abbastanza spezzata. Bene.